Nel 77 una voce mi sussurrò devi fare il fotografo la cosa che ritrovo straordinaria non è solamente il sogno come tale ma il fatto che il giorno dopo ricordai queste quattro parole con fare sicuro andai dritto a mio padre a dirgli quale sarebbe stata la mia futura professione quindi partì nel 79 come un immigrato per New York studiai fotografia alla School of Visual Arts e quindi questi primi quattro anni trascorsero in questa maniera studiando, facendo fotografie lì ho iniziato il mio primo progetto che poi è diventato un libro il passato perpetuo dedicato all'immigrazione volevo da palermitano a siciliano capire che cosa fossero gli italo-americani e quindi feci questo primo libro incominciai a visitare tutte queste comunità italo-americane le famose feste per ricordare un santo una celebrazione e così via e poi da lì incominciò lentamente a dipanarsi la mia carriera fotografica poi invece nel 92 nell'ottobre del 92 per caso per curiosità senza sapere tutto quello che sarebbe che avrebbe sconvolto nella mia vita andai dal Messico e arrivai a Cuba rimasi folgorato dal fatto che era proprio un viaggio a ritroso tornato immediatamente in Messico senza pensarci neanche un attimo mi andai a comprare due settimane e ritornai a Cuba senza sapere come sarebbe cambiata la mia vita radicalmente grazie a quest'isola incredibile la cosa più bella di essere fotografo è che mi porto dentro non solo la Sicilia ma anche in particolar modo Palermo perché non so se siete d'accordo ma io dico sempre che Palermo ci forgia perché è una città unica dura bella stimolante allo stesso tempo quindi questi sapori questi odori questi edifici fatiscenti arrivando a Cuba nel 92 rimasi esterefatto sentì questo fortissimo senso di appartenenza Cuba ha cambiato la mia vita sia come uomo sia come fotografo principalmente come uomo ho finalmente trovato la mia compagna di vita perché non è mia moglie non è la mia donna è una compagna di vita da cui sono nati i nostri figli Pietro e Stefano e poi dal punto di vista professionale ovviamente mi ha aiutato tantissimo il mio lavoro cubano grazie a queste fotografie esposte anche qua a Palermo 22 anni dopo ho vinto alcuni premi importanti insomma il mio nome lentamente si è fatto conoscere in giro per il mondo dal punto di vista fotografico mi piace sempre ricordare che ho un solo mentore si chiama Robert Frank non devo spiegare tanto chi è perché è uno dei fotografi più famosi al mondo e gli ho regalato i miei libri lui li ha sfogliati e mi ha detto una sola cosa è stato l'aconico ho detto hai speso parecchio tempo su questo libro 14 anni una delle altre cose importanti a sottolineare sempre legate alla fede al disegno che lentamente incomincio a intravedere è il fatto che quando nel 2006 a causa dei miei workshop fumo costretti ad andare via da Cuba che è stato forse uno dei momenti più difficili della mia vita perché amavo l'isola amavo i cubani essere rimasto lì ad infinitum quando arrivamo quando approdammo a Veracruz in Messia che diventò la nostra nuova casa pensavo ingenuamente che fondando questa piccolissima casa editrice avrei fatto un solo libro su Cuba che si chiama adesso Basan Cuba non avevo la benché minima idea che avrei fatto una trilogia ma ancora più importante che avrei incominciato a pubblicare io novello editore i lavori dei fotografi di maggiore talento che in questi 17 anni hanno studiato con me sono felice sono un uomo tranquillo la vita da poco mi ha fatto un altro straordinario regalo dopo dieci anni di esilio perché io non sono potuto tornare a Cuba per dieci anni due settimane fa sono tornato è stata una delle cose più belle più commoventi della mia vita poter ritornare su questa terra che amo rivedere i miei amici contadini invecchiati con i soliti problemi poterli aiutare in parte poter fotografare nuovamente io pensavo di non poter mai più tornare adesso si apre una finestra enorme per me perché voglio continuare a raccontare quest'isola dopo questi dieci anni di pausa e la cosa straordinariamente bella è che a parte diciamo piccoli cambiamenti positivi grazie a Raul Castro che ha liberalizzato l'economia e quindi i cubani riescono a vivere leggermente meglio se tu vieni fuori da queste zone turistiche è tutto uguale la motivazione più profonda viene dalla parte più interna del mio essere dico sempre che gli occhi che abbiamo sono semplicemente un obiettivo fotografico i veri fotografi secondo me hanno sempre fotografato con quello che amo definire l'occhio interno cioè quello collegato al nostro cuore e alla nostra anima grazie a tutti